Io sono qui per darle un consiglio. Non si tratta di una minaccia, se è ben chiaro. È un semplice avvertimento. Mi domando che senso ha il giorno d'oggi una storia d'amore in questo sfacelo, in questa corruzione. Ma è proprio la corruzione il cemento che tiene unito il nostro paese. E sono i corrotti i primi che vogliono vedere delle storie d'amore. E dica che tu la pensi come loro. Io non sto più dalla loro parte. Se dovresti averlo capito, sto dalla tua. Non voglio più restare qui. Dove andiamo? Non ci sono alberghi da queste parti. Ho sentito dire che tu sei un intellettuale marcio. Ma io non sono un intellettuale, né marcio né sarò. Me l'hanno detto in due, deve essere vero. E io di te non ho sentito niente. Ah sì, qualcuno mi ha detto che sei sexy. Solo questo? Vabbè, si diranno tante altre cose, ma io non le so. Mi informerò. Con chi vai a letto a questo momento? Il tuo regista? No. Nick? Dove sei? Sono qui. Non sparire, ti prego. Credi che anche qui ci sia qualcuno che ci sta spiando? Non credo. Io ti dico di sì. Cos'è che te lo fa dire? Lo sento. Ma santo Dio. Non si può mica passare la vita ad aspettare il momento di vendicarsi. Così. Grazie a tutti.